Stiamo per trasmettere una puntata di Miniserie, il primo spettacolo radiofonico dedicato alle serie tv, a cura della Scuola Romana di Improvvisazione Teatrale Verba Volant e della compagnia professionale QFC Teatro in collaborazione con 11 Radio. Ricordiamo a tutti i radioascoltatori che Miniserie è interamente improvvisato, quindi è inutile andare alla pagina 777 di Televideo, prima di tutto perché siamo in radio e secondo perché lo spettacolo è improvvisato. Pronto? Salve signore, la stiamo chiamando da 11 Radio, la web radio dell'undicesimo municipio. Sta per andare in onda una miniserie totalmente improvvisata, per questo abbiamo bisogno di un input per iniziare. Ci può suggerire una parola, una frase o una semplice emozione? Un input? Sì, un suggerimento. Oggi è una bella giornata, una bella giornata. È una bella giornata sia, grazie. Oggi è la volta buona, faccia entra, faccia entra, oggi è la volta buona, faccia entra, faccia entra. Dai, dai che ci fanno entra oggi, dai che ci fanno entra. Quanto stiamo a perdere? Tu, scaldati. Vado io, vado io. No, no, tu, tu, tu. No, no, l'altro, scaldati. Forza James, scaldati, dai. Ora, stiamo perdendo, quant'è? 23 a 10. Capirai? 10 sono fatte con 3 calci, manca di che abbia fatto una mezza. Sì, ma guarda il pilone, il pilone non si legge in piedi. Guarda, guarda che cosce che ho io, guarda che cosce. Eh, questo è frutto di duro lavoro, ma soprattutto di tanto uso di sostanze giuste. Oh, diciamola tu. Ah, sì. Non te fa sentire, non te fa sentire quando dici queste cose. Ma giusto, ma perché bisogna farlo? Guarda, guarda se indurisco la gamba. Ma l'esplosione di muscolo. Guarda il pilone, niente. Oggi, oggi proprio non ci stanno, Asia, non ci fa entra oggi. Sì, scaldati. Io ho più. No, no, tu, quell'altro. Io ho l'altro dietro. Ancora. Ho un'idea, ho un'idea, no, perché se non raggiungiamo le cose con le buone, bisogna raggiungerle con le cattive. Facciamo tipo contro. No. No, facciamo, portiamo sfiga. Prendiamo la cipolletta. Ma no. Che facciamo? E gli sabotiamo la macchina al mister, così magari cambiamo mister e forse... Ah, ma nell'immediato, io oggi voglio giocare, oggi è una bella giornata, mi sento proprio... Mi sono venuto a vedere pure Clara con Filippo e Matteo. La Clara? Sì, scaldati. Io? No, l'altro. Io? No, Clara, là, scaldati. Ma c'è la Clara? Ma non ci posso credere. Clara, non va manco in palestra, capirai? E' bella perché, però devo dire che ha questo zucchine. C'hai dei bei polpacci, eh? Eh sì, devo dire che c'è un po' di polpacci, eh? Scusami, ragazzi, ragazzi, devo fare una foto. Ah sì, grazie. Se vi allargate, devo fotografare il giocatore dietro di voi, scusate, ma non ci muore. Grazie. Ehi, scaldati. Io? No, te. Io? No, tu con la foto. Oh, che bella. Vai in calma. No, ma mister, con la fa entra quella che fa le foto. Silenzio. E' tra il fotografo. Va bene, scusi. Oh, sta per finire, mancano cinque minuti. Secondo me non li ripiglievo più, però, ecco, forse ce li fa entrare perché tanto non c'ha più niente da perdere. Oddio, non c'ho più niente da perdere. Mister, 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 non ha più niente da perdere. Ci siamo io e Filippetti. Ok, vado in campo, vuoi rimanere lì. Come va in campo? No, dobbiamo avere coraggio. E' finita, ragazzi, bravi tutti. Manco oggi siamo entrati, faccia entra, faccia entra. Manco oggi siamo entrati, faccia entra, faccia entra. Li avete ascoltati per radio, ma se volete vederli dal vivo, potete venire al Teatro Le Maschere in via Saliceti 1 il 16 ed il 23 marzo 2013 alle ore 21. Seguiteci su www.verbavolant.roma.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti